Benvenuti nella guida degli e-book Wiley della Biblioteca d'Ateneo dell'Università di Milano Biconca. Vedremo la collezione e-book di Statistica e le Encyclopedie. Iniziamo dalla collezione e-book di Statistica. In particolare vedremo come accedervi, come cercare e come vengono presentati i risultati. Andiamo nel sito della biblioteca, quindi www.biblio.uninib.it e cerchiamo in curiosone. Seleziono libri, scelgo dalla tendina solo e-book e scrivo nel campo di ricerca Wiley Statistic Series. Lancio la ricerca. Ecco l'elenco dei risultati. Apro ad esempio il quarto e-book. The Statistical Analysis of Time Series Clicco il bottone Testo completo. Ecco l'e-book. Ogni volume permette di scaricare sul proprio PC i singoli capitoli in PDF. In alternativa si può cercare all'interno del libro utilizzando il search in alto. Basta inserire un termine e cercare in this book. Vediamo ora le enciclopedie dell'editore Wiley. Andiamo nel sito della biblioteca e cerchiamo in curiosone. Seleziono libri, scelgo dalla tendina solo e-book e scrivo Wiley Encyclopedia. Lancio la ricerca. Ecco l'elenco dei risultati. Apro ad esempio l'ottavo Encyclopedia of Computer Science and Engineering. Clicco il bottone Leggi il libro. Possiamo cercare un termine all'interno dell'enciclopedia utilizzando la funzione Search For. Scrivo ad esempio Posets Lattices. Possiamo limitare la ricerca ad alcuni campi. Spunto ad esempio Titolo e Autore. Avremmo potuto aggiungere anche ulteriori filtri, come la data di pubblicazione o l'argomento. Lancio la ricerca. Per scaricare il documento basta cliccare Full Text HTML o PDF. Oltre alla ricerca per parola chiave, possiamo fare altri tipi di ricerche. Torno all'home page dell'enciclopedia. Dal menu a sinistra Find Articles posso selezionare Article by Title per visualizzare l'elenco alfabetico delle voci dell'enciclopedia. Oppure Article by Topic per avere un elenco degli argomenti in cui le voci sono comprese. La ricerca per avere un elenco degli argomenti in cui le voci sono comprese.